Quindi Gesù Cristo è venuto per farci conoscere quello che il Padre vuole per noi, la bellezza della vita. Ma perché non si fa vedere? Perché? Ma proprio per lasciarci liberi, liberi di credere e di non credere. Perché se no ogni cazzata che facciamo ci dice, oh, che fai? È come se non sei più libero. Certo, non sei più libero ma anche di vestemmiarlo. Invece siamo liberi di vestemmiarlo, siamo liberi di ammazzarci, di ammazzare, siamo liberi. Però questa libertà vissuta male, in questo modo qui vissuta male, non ci sta portando a quello che stiamo vivendo. Una libertà usata, male. Comunque è incredibile che la gente sia così cieca. Cioè io mai mi sarei aspettato che ci saremmo arrivati a queste condizioni. Vengo io. Però io ho incontrato negli anni 70, ti parlo del 73, 74, un prete che ci diceva, eravamo tanti prete a sentire, abbiamo tutto, abbiamo tutto. Non ci manca niente, ma perderemo tutto. E lo dicevo in un'epoca in cui le chiese erano stracolme. Già negli anni 70. Eh sì, già dopo la guerra hanno cominciato a picchiare di brutto. Sì, ma era evidente, io non mi rendevo conto, adesso mi rendo conto che distrutta la persona, tirata via la persona dal rapporto con Gesù Cristo, è finita. è finita la persona, è finita le famiglie, è finiti i giovani, è finiti gli anziani, è finiti le università, le scuole, è finito gli ospedali. E poi se uno ci pensa, l'intenzione di Satana è quella di distruggere la creazione di Dio, no? Certo. Di lui si diverte quando noi siamo completamente persi, ci ammazziamo uno con l'altro. Certo, gode. Gode proprio. La realtà è uguale per tutti. Questo che cos'è? Che cos'è? Un cellulare. È un cellulare per tutti. Quindi la realtà è uguale per tutti. Allora, la prima cosa che viene fatta è la manipolazione della realtà. Cioè la realtà te la vogliono far vedere in un altro modo. E ti vogliono convincere che non è quella. Andiamo subito a fare degli esempi concreti. La donna non vuole essere donna, vuole essere uomo. Esattamente, bravo. L'uomo non vuole essere uomo, vuole essere donna. E pensano che sia normale sta quella. Esatto. Quindi ecco, la realtà manipolata. Molti si tagliano i generali anche. La prima cosa è la realtà. Ok. E il metodo per affrontare la realtà, il metodo, come l'affronto la realtà? Il metodo me lo suggerisce chi? No, me lo impone, la realtà stessa. La realtà è tutto quello che esiste. Ci sono delle leggi. No, la sapete è la legge, è la realtà la legge. No, leggi nel senso, se io mi butto dalla finestra, mi farà male, diciamo. Oppure se mi metto la mano nel fuoco, mi brucerò. Non sto parlando di questo. Io ti sto dicendo, se io devo fare gli spaghetti, gli spaghetti non li posso fare come penso io. Li devo cucinare come devono essere cucinati. C'è una cosa oggettiva. È una cosa oggettiva, non soggettiva. Ecco, la realtà va affrontata per come la realtà è, non per come penso io. Perché se io mi rapporto con le persone e con le cose come penso io, il rapporto con la realtà non avviene. Avviene un rapporto ma è un'altra cosa. Perché la realtà la voglio manipolare, la voglio tirare a me, la voglio vedere come dico io, la voglio far passare come dico io. Questa oggettività è la parola di Dio. Certo. Ma il Dio crea così. Il sole, il sole per tutti. Questa è la prima cosa, perché la realtà e il metodo per affrontare la realtà è imposto dall'oggetto stesso. Se io la realtà la affrondo come mi dice la maggioranza, come mi dice il governo, come mi dice questo e quello, è una manipolazione. Quindi io... È come se stai dando il cervello alla tv per pensare al posto tuo. Esatto. E poi a un certo punto, siccome non l'hai mai usato il cervello, ci provi il gusto a lasciargli pensare loro, no? E credi che dicono le cose giuste? Esattamente. E vai contro quello a cui pochi che dicono la verità magari. Come avrà negli ultimi giorni? La seconda cosa, quindi al primo punto è la realtà, essere introdotti a conoscere la realtà per come la realtà è, ma il metodo per conoscere la realtà è imposto dall'oggetto che io voglio conoscere, non dal soggetto. Non sono i genitori che devono mostrare le cose come le pensano loro. No, neppure il prete, neppure il papa, nessuno. Nessuno può fare questo. Perché la realtà non la facciamo noi. E chi la fa? Dio. Dio. Ecco. Secondo punto, che è uguale per tutti, secondo punto è la ragionevolezza, la ragione. Cioè io che ho, che noi uomini, noi persone abbiamo la ragione, dobbiamo affrontare la realtà secondo tutti i fattori che la realtà ha. Non è soltanto alcune cose. Ecco perché il rapporto tra l'uomo e la donna non decolla, è sbagliato. Perché? Perché l'uomo va cercando della donna soltanto una o due cose. Cioè la passera e il bucquadro. Solo la parte materiale, diciamo. E basta. Non spirituale. E quindi ecco che usa la ragione, la usa male. Male. Perché non tiene, non va alla ricerca di tutti i fattori. Completo, diciamo. Completo. Questo pure è un lavoro, ma un lavoro che siamo chiamati a farlo tutti. Perché poi se gli altri non lo fanno, va beh, gli altri non lo fanno. Io lo voglio fare. Io voglio tener conto di tutti i fattori. Non posso tener conto solo di un fattore, due fattori. No, ma io di tutti i fattori. Secondo me, almeno a me è successo così. Praticamente io mi sono bruciato dalla vita. Ho sbagliato. E praticamente ho capito che ci sono conseguenze a non rispettare questa oggettività della vita. Certo. E quindi solo a loro mi sono sbagliato. Però molta gente vedo che si brucia ultimamente. E non sente nascostato di loro. E non sente più niente. E' certo. Mi sono fatica, Saúl. La terza cosa è la moralità. Cos'è la moralità? Quando una cosa è morale? Quando io affermo la verità. E' la testimonio. Questa è la moralità. La moralità non è... La persona immorale è quella che non ti fa conoscere la verità. E non ti fa vivere quelle altre due cose che abbiamo detto prima. E' una persona immorale perché va contro la realtà, ma contro la ragione. E quindi la verità viene completamente censurata e nascosta. Esattamente. Tutte le nascoste. Tutte le nascoste. Tutte le nascoste. Questi che comandano, cercano di ingannare la gente. Ma tutti noi facciamo così. Non solo quelli che sta comandando. Perché anche noi, che nel nostro piccolo, possiamo ingannare e ingannarci. Adesso faccio un altro esempio di qui. A Muccia è stata fatta una scuola da Bogelli. Conosci Bogelli? Il cantante? Il cantante. Lui c'ha soldi, no? Ha costruito una grossa scuola. Qui a Muccia l'ha regalata al comune, no? Per i bambini, la scuola elementare. Adesso io ho scoperto ieri. Quindi, già sta funzionando, è la nostra scuola. Che questa fondazione Bogelli ci ha messo dentro un signore che è un pedagogo. Pedagosista. Mi hanno detto che per dieci anni questa scuola è alle dipendenze di questi dirigenti della fondazione Bogelli. Cioè, praticamente, dentro la scuola, ai bambini, le regole del muoversi, del fare dentro la scuola, lo stabilisce loro. E secondo, quando me l'hanno raccontato, le donne, le mamme, mi dicono, è importante, è educativo. Troppo le sceme. Poveri sceme. Che direzione stava avendo, diciamo, la scuola? No, no, io ti dico che questi signori che fanno così, fanno così perché vogliono tirare su una generazione di gente, comunista, di gente che deve ragionare e vivere come dicono loro. Esattamente. Hai capito? Che è, diciamo così, venere allo Stato, no? Sì, ti fa un regalo, ti regalo una scuola, ostela, una cosa, però questa scuola la dirigo io. Come voglio io. Come voglio io. Ti insegno a masturbarti, educazione sessuale, tutta questa roba. Tutto. La seconda. Satana c'ha in mano tutto questo mondo, c'ha i soldi, c'ha tutto, quindi c'è poco da fare. No, no, c'è tanto da fare, c'è tutto da fare, che la Madonna sarà vincitrice, perché lei ci porta a Gesù Cristo, Gesù Cristo è Dio, è il figlio di Dio. Sì, alla fine c'è... No, vinceremo sicuro, ma se stiamo con loro, se recitiamo il rosario, se preghiamo, se stiamo con loro, siamo vincitori. Se ci distacchiamo da loro, il demonio ci si mangia come... Piano piano, quei pochi che crederanno, verranno visti come terroristi, eh? Non fa niente. Non frega niente. Non me ne frega niente, fanno quello che gli pare. Rimarrò sulla mia linea. No, no, guarda. In fondo. No. No.